Per presentare il brano noi faremo Arcangelo Corelli, lui ha scritto 12 concetti grossi, questo è il numero 8, su commissione di un cardinale in un'occasione proprio come questa, per gli auguri di Natale, infatti il titolo è per la notte di Natale. Il sol minore, sei tempi, l'ultimo tempo è il più famoso, la pastorale, che poi voi riconoscete perché è il titolo di qualche colonna sonora. Buon ascolto. Grazie a tutti. 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 Grazie.